Negli studi di TVC, Carlo Esposito, presidente dell'Associazione Area Sviluppo Porto, nonché imprenditore di Torre del Greco, momento molto difficile per il settore della ristorazione. È un anno che stiamo soffrendo. La ristorazione è tra quelle attività maggiormente colpite e, tant'è vero, dopo un anno stiamo incominciando a vedere imprenditori che stanno chiudendo perché chiaramente non ce la fanno più. A proposito di questo, abbiamo oggi un incontro con l'assessore alle attività produttive e con l'assessore al bilancio, nonché i dirigenti del settore, per trovare una soluzione a sostegno della ristorazione. Quali saranno le vostre richieste? Le richieste le facemmo già a suo tempo. Riguardava innanzitutto la riduzione dell'Atari, la possibilità di avere un contributo per aiutare le attività chiuse e poi c'era anche un discorso legato a un portale online che dava la possibilità di vendere online a tutti i commercianti e tutti gli imprenditori di Torre del Greco. In questo momento voi come categoria sentite la vicinanza delle istituzioni? La stiamo sollecitando la vicinanza alle istituzioni perché chiaramente sono presi da mille cose e noi purtroppo non siamo in ordine tra i primi. Quindi stiamo cercando di sollecitare incontri come quello di stamattina e sensibilizzare l'amministrazione a venirci incontri in qualche maniera. Perché è chiaro che gli imprenditori, già ho detto un'altra volta, devono rischiare ma una pandemia non rientra fra i rischi di un imprenditore. Quindi è necessario in questa situazione avere un sostegno anche dalle amministrazioni locali. Sono tanti in questo momento gli imprenditori, ristoratori e attori del Greco che si trovano in grandi difficoltà economiche e che rischiano anche la chiusura? Sicuramente sì perché purtroppo ci sono anche piccoli imprenditori che campano preventemente di questa attività e hanno difficoltà proprio ad andare avanti. Perché a parte le spese vive c'è anche un problema di sussistenza della famiglia. Quindi uno dopo un anno ha perso tutte le risorse. Tanto è vero che a Corso Garibaldi già due locali hanno chiuso e penso che su Torno del Greco non siano gli unici due. Quindi è necessario fare in fretta per aiutare gli imprenditori. Un settore anche strategico dell'economia di questo territorio? Esatto, da occupazione a una bella fetta di cittadini torresi. È un settore tra l'altro legato al turismo che purtroppo in questo momento non è possibile e quindi è necessario in qualche maniera sostenerli. Qua nessuno vuole elemosinare nulla. È necessario un sostegno anche nella riduzione delle tasse che già questo potrebbe alleviare le casse ormai esaurite degli imprenditori. Lei prima parlava di Corso Garibaldi, una zona che è stata anche riqualificata e rispetto alla quale molti imprenditori hanno avuto anche il coraggio di investire e di rischiare. Abbiamo rischiato, io per esempio sono da quattro anni in Corso Garibaldi, abbiamo avviato con grossa sofferenza perché chiaramente la zona non era tra le migliori. Però poi c'è stato un boom di presenze e di frequentazione molto interessante, tant'è vero che dopo di me hanno aperto anche altri imprenditori. E quindi è un peccato dopo tutti questi sacrifici buttare tutto a mare. È necessario che l'amministrazione ci dia una mano. Grazie a tutti.